Canto Riccardo Canta, complimenti a Mario, l'hai detto stai bene, quando stai bene riesci a dare l'apporto migliore a questa squadra, che è fondamentale averti in questa formazione, ma quando hai visto lo schieramento così aggressivo ti ha porto tutti i casi, questa cosa ti ha sentito più possibilità, oggi la squadra voleva giocarla la partita. Sì, ma è il nostro credo, è quello che ci sta trasmettendo il mister dal primo giorno che è arrivato, quindi è questa la mentalità e soprattutto lavoriamo tanto sull'atteggiamento, sulla mentalità, sull'attenzione e soprattutto sulla determinazione, quello che comunque stiamo portando in campo, ma è frutto sicuramente dal lavoro quotidiano che mettiamo giorno per giorno, tutti insieme.